...questa cerimonia determina l'apertura ufficiale di questa bellissima attenzione. Prego Presidente. ...questa cerimonia è una cosa, Presidente. Noi autorappresentanti degli autorasportatori oggi sono rappresentanti per la Camera di Commercio, per il settore dell'asporto. Abbiamo finalmente dato corso all'apertura di questa strada che da tanto tempo mancava. Noi vogliamo una migliore viabilità per quanto riguarda la provincia, vedo che il programma pluriennale è orientato verso questo obiettivo e quindi diciamo grazie alla provincia di continuare su questa strada perché comunque gli autorasportatori vogliono per fin evitare che ci siano incidenti, ingorghi e comunque anche l'inquinamento ecologico fa parte della nostra attività. Grazie Presidente. Grazie a tutti.